Conoscere, conoscersi e orientarsi nel mondo della scuola per compiere scelte valide per il proprio futuro. Sta in queste parole il significato del progetto per l'orientamento scolastico messo in campo dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con la Fondazione Cari Verona. È un progetto particolarmente ambizioso che è iniziato nel 2008, si è concluso nel 2012 e il 2013 ci è servito per monitorare tutta l'attività e per capire se le scuole che fanno attività di orientamento in quarta, quinta o superiore facilitano o meno gli studenti nella scelta dei percorsi universitari. Dal progetto emerge un dato, il 40% degli studenti che frequentano scuole dove viene fatta sistematicamente attività di orientamento sono facilitati nella scelta di indirizzo di studio universitario. A dirlo anche il servizio valutazione dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Noi siamo ancora in fase di sperimentazione, però devo dire che per le scuole che abbiamo finora valutato, che sono un piccolo gruppo, l'orientamento è un'attività che le scuole fanno, nel senso che c'è una certa strutturazione nelle scuole. Sono poche le scuole che non fanno nessun tipo di attività di orientamento. Diciamo che quello che noi vediamo è che ancora in molte scuole l'orientamento è qualcosa di circoscritto, invece chiaramente l'orientamento è tanto più efficace quanto più riesce ad andare sul singolo e quindi anche magari supportandosi con figure esterne, esperti, psicologi e così, chiaramente l'orientamento diviene qualcosa di eccellente, qualcosa che veramente può fare la differenza per i nostri studenti. Ad aderire ben 43 istituti scolastici delle province di Verona, Vicenza e Belluno che hanno ideato percorsi di continuità e orientamento tra scuole superiori e università, come il progetto chiamato Antica Messene. Come nasce questo progetto Messene? Nasce cosiddettamente dalla scoperta di questo sito archeologico in Grecia, che è appunto l'Antica Messene, in Messene, nel Peloponneso, con l'idea di far partecipare gli studenti, con l'entusiasmo che avevo io, allo scavo soprattutto. La fortuna di questo progetto sono i ragazzi, nel senso che siamo partiti da 12 studenti che abbiamo portato in Grecia, condotti per mano in un itinerario che è composto di una fase formativa di seminari e di un corso di lingua neogreca fino allo scavo. Questo progetto si è arricchito proprio vedendo l'entusiasmo e da solo una formazione seminariale e noi siamo passati anche a un'esperienza pratica preparatoria e portarli in Grecia consapevoli della ricchezza di questo progetto, indipendentemente da quello che sarà l'indirizzo che prenderanno all'università, ma di orientarli allo studio universitario e fargli capire qual è la passione.